ho dei ricordi della mamma che successivamente mi ha detto avevi tre anni e stavi giocando col pallone in spiaggia è venuto questo signore a chiedermi signora ma è suo figlio sì mi può dire il nome e il cognome e lei dice ma perché scusi voglio segnarmelo perché suo figlio sicuramente arriverà a giocare in Serie A quanti anni hai quando vai in A per la prima volta 22